Laudetur Riesus Christus, cari amici teleradioascoltatori e Pierluigi Bianchi Gagliesi che vi parla oggi il 9 dicembre 2021 per il nostro commento del giorno. A Torino si è verificato un caso identico a quello di Bibiano con dei bambini strappati alla loro mamma per darli a una coppia gay. Si tratta di due piccoli nigeriani sradicati dalla famiglia affidati a due lesbiche a cui sono stati poi tolti per maltrattamenti, pensate. E poi indagato anche in questo caso la moglie di Foti, vi ricordate quel famoso psicoterapeuta condannato per il caso Emiliano. Bibiano continua, cari amici, su questa scia di abomini che si consumano interrottamente a danno sempre dei più piccoli. E questo nel caso specifico per otto anni, pensate dal 2013 al 2021, questi due bambini che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torino aveva affidato a una coppia di donne omosessuali, quindi due donne che sarebbero poi state continuamente artefici di maltrattamenti nei confronti di questi poveri bambini. E' quello che è emerso appunto da un'inchiesta che è stata condotta dal Pubblico Ministero Giulia Rizzo e che ha messo in evidenza appunto fatti veramente inquietanti, che dicevo ricordano quello che è accaduto a Bibiano, dove voi ricorderete il 27 giugno di due anni fa appunto 16, ben 16, fra amministratori, assistenti sociali, psicoterapeuti furono raggiunti da misure cautelari eseguite dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta denominata Angeli e Demoni. Allora vedete come oggi le vittime sono sempre i bambini strappati ai genitori e affidati solo sulla base di una semplice dichiarazione di adottabilità. Questa è una procedura supportata da presunte accuse che lasciavano intendere che i minori fossero vittime di abusi sessuali all'interno della propria famiglia di origine e di tante altre interpretazioni veramente folli che poi giustificano le decisioni che vengono prese. E questa operazione vedete coinvolge anche la psicoterapeuta Nada Bolognini che è l'ex moglie di Claudio Foti che è il fondatore del centro Hansel e Gretel di Torino, uno dei principali imputati nella vicenda di Bibiano e condannato recentemente a quattro anni di reclusione per le manipolazioni psicologiche sui bambini che aveva in cura. Una cosa veramente orrenda, una cosa veramente abominevole che non ha fine, che non ha fine. E vedete cari amici, questi otto anni da incubo durante i quali questa coppia di lesbiche che li aveva ottenuti in affido dai servizi sociali li avrebbe maltrattati, sono finalmente terminati proprio in questi giorni con un divieto di avvicinamento disposto dalla procura di Torino. Le vittime sono un fratellino, una sorellina di origine nigeriana che adesso sono ospiti di una casa famiglia. E la psicologa Nadia Bolognini, che è l'ex moglie di Claudio Foti, il famoso guru dell'Onlus Hansel e Gretel, condannato a quattro anni con rito abbreviato per i fatti di Bibiano, colpisce ancora. E se nel processo di Reggio Emilia, denominato Angeli e Demoni, questo Foti è accusato di falsa perizia, depistaggio o frode processuale, più tutta una sfilza di altri reati, a Torino, dove il Pubblico Ministero Giulia Rizzo indaga dal 2019, si ipotizza invece il reato di falso ideologico. Quindi il problema, cari amici, è che in questa inchiesta è stato messo in luce, tutto, sono stati messi in luce problemi dai risvolti veramente impressionanti, sempre con storie di bambini strappati ai genitori affidati, in questo caso una coppia di mamme sulla base di una semplice dichiarazione di adottabilità. Una procedura, vedete, nella quale si è innestata ovviamente la consulenza della Bolognini, che stando all'accusa conterrebbe le solite presunte accuse di abusi sessuali all'interno della famiglia d'origine, perché si comincia ad attuare questo processo perverso che porta poi a togliere i bambini dai genitori, accusando gli stessi genitori di essere artifici di abusi sessuali nei confronti dei bambini. Si inventa artificialmente questo pretesto per poi toglierli. I carabinieri nella realtà hanno scoperto che i due piccoli, fratello e sorella, affidati nel 2013, avrebbero subito per otto anni maltrattamenti fisici, ma soprattutto psicologici. La tecnica è sempre la stessa, è quella di distruggere la loro relazione con la madre naturale. Una operazione sporca che avrebbe prodotto un rifiuto delle loro origini, sia affettive che culturali. Quindi è proprio un'opera, vedete, un'operazione che deve distruggere prima i rapporti tra i bambini e la loro mamma, o i loro genitori, e poi estorcere agli stessi bambini una serie di dichiarazioni, fargli produrre dei disegni che poi vengono interpretati, capite, da questi psicoterapeuti, da questi psicologi, da questi assistenti sociali per dimostrare l'esistenza, vedete, di questo tipo di abusi. E poi, una volta sviluppato tutto l'impianto necessario, si procede a toglierli alle famiglie di origine e assegnarli, come in questo caso, a due coppie omosessuali. Cari amici, è una situazione veramente impressionante, in cui, in questo caso, la psicologa è anche autrice di un manuale sulla cosiddetta genitorialità omosessuale, patrocinata dal Comune di Torino proprio nel periodo della giunta di Chiara Appendino. E addirittura questa psicologa esibì il caso di un ragazzo affidato a una coppia di uomini durante un convegno intitolato «Cresco bene con voi», quasi fosse nella sostanza già un'adozione definitiva. Però, vedete, cari amici, in stile bibbiano. Cari amici teleradioscoltatori, questo abominio che si sta consumando in tutti i sensi, prima di tutto un abominio spirituale, poi materiale, di confronti dei bambini, ci riporta alla memoria le terribili parole di Gesù che vengono citate in maniera molto chiara nel Vangelo di San Matteo. Chi invece scandalizza, dice Gesù, anche uno solo di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata d'asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Gesù non scherza, cari amici. Questo abuso, questo abominio, questo modo di massacrare i bambini fisicamente con le morti, gli aborti e tutto quello che ne viene dietro e poi anche spiritualmente per distruggere le loro anime è qualcosa che ci ricorda queste terribili parole di Gesù quando dice a chi dà scandalo, cari amici, che meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata d'asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per parlare di scandali, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. E a tutti voi, cari amici tele-radioascoltatori, l'augurio di una buona giornata. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus.